Se sei bravo, prima o poi ti scoprono. È una cagata pazzesca. Ciao guerrieri, in questo video andiamo a distruggere questa credenza limitante, che è una delle più diffuse, e andiamo a vedere invece come stanno realmente le cose. Perché se vuoi farti conoscere come musicista, è importante innanzitutto che tu conosca la verità, come stanno realmente le cose, perché altrimenti vai dietro ad una credenza che non è vera, vai dietro a delle bugie e poi non può che finire male. Allora, in Italia abbiamo questa maledetta credenza che se sei bravo, artisticamente, prima o poi il mondo avrà uno schizzo di meritocrazia e deciderà di premiarti. Ora, se tu come me vivi in Italia, almeno per ora, credo che ti sarai reso conto che la parola meritocrazia in Italia non è che sia proprio la parola più diffusa nelle nostre menti, non è che proprio funzioni così tanto la meritocrazia. Io personalmente conosco un sacco di artisti molto bravi musicalmente, che non si fila a nessuno, e vedo in classifica molti artisti vuoti artisticamente di plastica, cheppure sono seguiti da tante persone. Quindi, se fosse vero che prima o poi ti scoprono e basta essere bravo musicalmente, ce la farebbero tutti. Basterebbe essere bravi. Prima o poi arriva il premio. Ma questo non succede né nella musica né in altri settori. Se tu fai un lavoro, penso ti sarai reso conto che anche lì non è che viene premiato sempre il più bravo, anzi. E mi viene in mente poi l'esempio che faccio sempre di Van Gogh. Van Gogh credo fosse bravo, no? Non mi sembra l'abbiano scoperto. Poi, ok, prima o poi sì, nel senso, dopo che è morto, ok, però non penso sia quello che vogliamo. E penso anche che ci siano tantissimi altri artisti bravi come lui, che nessuno ha mai scoperto. Quindi, questa è una grande bugia. Ma non voglio limitarmi a dirtelo, voglio smontartela, diciamo, in maniera logica. Questa credenza si basa su tre premesse sbagliate. Quindi, demolendo queste tre premesse, cadrà anche la credenza. Allora, la prima premessa sbagliata è il fatto che il talento sia una sorta di lampeggiante. Cioè, se tu mi dici che se io sono bravo, prima o poi qualcuno mi scopre, mi stai dicendo che il mio talento è una sorta di lampeggiante che nella notte attira l'attenzione ed è inevitabile che qualcuno mi noti. Ma non funziona così. Cioè, il talento non è un lampeggiante. E soprattutto, come faccio io a sapere che sei bravo se prima non ti scopro? Cioè, funziona al contrario. Se io in qualche modo ti scopro perché qualcuno mi parla di te o mi appari in home page da qualche parte, allora approfondisco e dico, cazzo che bravo che è questo qua. Ma prima ti devo scoprire. Per scoprire che sei bravo. Non è il contrario. Cioè, non è che se sei bravo io ti scopro. È che se ti scopro vengo a sapere che sei bravo. Quindi, la prima premessa è questa. Ed è sbagliata. La seconda premessa sbagliata è che quella frase dice se sei bravo e si intende musicalmente, se sei bravo come artista, se sei bravo a suonare, prima o poi ti scoprono. Ma, come dicevamo poco fa, come dovrebbe accadere? Cioè, non è che se io suono nella mia cameretta e sono bravissimo la gente in America sa che esisto e che sono bravo. La frase giusta sarebbe se sei bravo a farti conoscere, se sei bravo a comunicare, se sei bravo sui social, allora prima o poi ti scoprono. Allora sì. Così sì. Se tu fai contenuti tutti i giorni e vanno virali e sei bravo a raccontarti, allora sì, prima o poi penso che qualcuno ti scoprirà. Almeno lo spero, ma è molto probabile. Ma se tu sei bravo a suonare, ma non lo sa nessuno perché non lo comunichi, come dovrebbe succedere che ti scoprono? Io non posso scoprire l'esistenza di qualcosa di cui non so l'esistenza, appunto, almeno che qualcuno venga a dirmelo. Ma per venire a dirmelo vuol dire che tu stai facendo i contenuti, stai facendo pubblicità, stai facendo comunicazione. Altrimenti io non lo so che esisti, quindi come faccio a sapere? Cioè, oggi io non so che tu esisti, perché domani dovrei saperlo? L'unica cosa è che qualcuno mi parla di te o mi esce una pubblicità o l'algoritmo ti suggerisce, ma altrimenti non lo saprò mai. È come dire, se io nel cassetto ho un orologio d'oro, prima o poi qualcuno lo saprà. E no, è chiuso nel cassetto. Se invece metti cartelli in giro qualcuno lo viene a sapere, ma altrimenti no. Quindi anche la seconda premessa è sbagliata, non è se sei bravo a suonare e se sei bravo a farti conoscere. Prima o poi qualcuno ti scopre. Se sei solo bravo a suonare, resti bravo a suonare, ma nessuno ti scopre, non è detto, cioè, non c'è un collegamento. E infine, la terza cosa, che è quella più inaspettata, la terza premessa sbagliata, è che qualcuno debba scoprirci. Ma non è così, cioè, non siamo più negli anni Ottanta e non stiamo nemmeno giocando a nascondino. Cioè, non è che la vita dell'artista è stare chiuso in una stanza, suonare, che se no mi scoprono, e poi finalmente un giorno, ah, t'ho scoperto, sei bravissimo, vieni che ti do un contratto. Cioè, non funziona così. Chi è che deve venire a scoprirci? Cioè, questo presuppone che all'esterno, cioè fuori da casa nostra, ci siano delle persone che guadagnano qualcosa dal fatto di scoprirci. Ma, cosa gliene frega loro di scoprirci? Ce li hanno già gli artisti che gli fanno fare i soldi. C'è la Universal, ce li ha già gli artisti. C'avrà Annalisa, c'ha Fabri Fibra, c'ha, che ne so, in Metallica. Cioè, cosa gliene frega di scoprire te? Cioè, non è che è loro interesse scoprirti. Ti scoprono e ti firmano se gli fai fare dei soldi, allora sì, ma al momento non è questa la situazione. Quindi, che gliene frega loro di scoprirti? È nel tuo interesse al limite, non nel loro. Quindi, visto che non è nel loro interesse, non è che non ti stanno scoprendo, è che non ti stanno cercando, non gliene può fregar di meno. Cercano solo gente da sfruttare, quindi gente che già ha una fanbase, già produce soldi. Quindi, in ogni caso, quella cosa la devi già aver risolta. Ma nessuno deve scoprirti, cioè, non siamo più negli anni 80 che hai bisogno del permesso dell'etichetta o della radio per fare questo lavoro. Oggi tu ti apri i tuoi social, ti apri il tuo Spotify, carichi le canzoni e se al pubblico piace, ce l'hai fatta, fine, non devi chiedere permesso a nessuno, chi è che ti deve scoprire? Al limite, il pubblico ti deve scoprire. Però, quello è un altro discorso, perché qui invece la logica è io continuo a concentrarmi sulla musica, a fare il musicista, finché qualcuno che comanda scoprirà che sono bravo e mi svolterà la vita. Ma questa cosa non succede più. Non siamo più negli anni 80. Quindi, o ti salvi da solo, ti scopri da solo, o non c'è nessuno là fuori che ti sta cercando. È come se tu fossi sotto le macerie in attesa che qualcuno viene a salvarti, non sapendo che in realtà nessuno ti sta cercando. Quindi, o ti rimbocchi le maniche ed esci tu da solo, o ci muori lì sotto. Quindi, ricapitolando, innanzitutto, per sapere che sei bravo ti devo scoprire, non il contrario. Quindi, finché io non vengo a sapere che esisti, non verrò neanche a sapere che sei bravo. Secondo, questa cosa può avvenire solo se tu sei bravo a farti conoscere, a comunicare, non a suonare. Poi, spero che tu sia bravo anche a suonare, ma se lo scopo è farsi conoscere, devi essere bravo a farsi conoscere. E terzo, nessuno ti sta cercando. Sei tu che sei interessato a far sapere al mondo che esisti, ma è un altro discorso. Quindi, non è vero che se sei bravo, tra parentesi, a suonare, prima o poi ti scoprono. La frase più giusta sarebbe se sei bravo a farti conoscere, quindi a comunicare, allora il tuo pubblico, non qualcuno di un'etichetta, ma il tuo pubblico, prima o poi ti scoprirà, verrà a sapere che esisti e si innamorerà di te. Non suona molto meglio? Direi di sì. Quindi vuol dire che oltre a essere bravo a suonare, se ti impegni un minimo nel farti conoscere, le persone che potrebbero essere i tuoi fan, prima o poi vengono a sapere che esisti, scoprono anche che sei bravo e si innamorano di te, ti seguono. Questo è come funziona oggi. Non se sei bravo a suonare, se sei bravo a suonare e a farti conoscere. E non è che ti devi scoprire l'etichetta, ti devi scoprire il tuo potenziale pubblico perché non hai bisogno del permesso di nessuno, puoi fare da solo. Ti serve solo una fanbase, sono loro che ti devono scoprire. Quindi il mio consiglio è smetti di aspettare il principe azzurro, smetti di aspettare che qualcuno venga a salvarti, che purtroppo essendo cattolici abbiamo sta cosa del salvatore, e entra nell'ottica che sei tu che vai a scoprire il tuo pubblico, sei tu ad andare dal tuo pubblico a farti scoprire. Credo sia più bello. No? Piuttosto che fare la vittima e stare qua impotente che finché non arriva il signor Rossi della Universal che mi dice ok, puoi fare musica di lavoro, io non conto nulla. Piuttosto che sta cosa, non è più bello che invece è tutto in tuo potere e devi solo attraversare l'oceano per andare a cercare il tuo pubblico. L'oceano metaforicamente, cioè di solo superare gli ostacoli per farti scoprire dal tuo pubblico. Una volta che ti scoprono vi innamorate a vicenda e sei a posto, è la tua fanbase che ti frega del contratto con la Measure. Poi, se vuoi a tutti i costi il contratto con la Measure, comunque sappi che prima devi comunque passare da questa cosa. Finché non hai una fanbase non girano soldi e finché non girano soldi alle etichette non gliene frega niente di te perché non ti possono sfruttare. Quindi, non ti stanno cercando. Quindi, in entrambi i casi, prima, devi farti conoscere dal tuo pubblico, dal tuo potenziale pubblico e creare la tua fanbase. E questo si fa imparando a farsi conoscere, quindi comunicando meglio. Poi, una volta che hai questo, se vuoi firmare con una Measure lo potrai fare, altrimenti, come ti consiglio io, resti indipendente e ti fai gli affari tuoi. In questo modo ti gestisci da solo e non devi rendere conto a nessuno. Se vuoi una mano per imparare questa cosa, quindi la comunicazione, il marketing, come farsi conoscere, noi abbiamo un percorso di affiancamento, dura tre mesi e in quei tre mesi ti rendiamo totalmente autonomo, indipendente e consapevole. Sarai in grado di creare contenuti virali in cinque minuti al giorno, avrai un'identità artistica e tante altre cose che ti servono a questo scopo, a farti conoscere. Se vuoi saperne di più, in descrizione trovi i link e anche un link per prenotare una chiamata conoscitiva gratuita dove ci potrai raccontare del tuo progetto, dei tuoi obiettivi e noi ti spiegheremo meglio come funziona il percorso. Quindi, da un'occhiata in descrizione e ti do appuntamento ai prossimi video. Ciao guerrieri!